Una marcia che prosegue inarrestabile e al momento da vetta della classifica nel girone di allievi regionali. Un inizio 2024 identico alla fine del vecchio anno. Ottava vittoria di fila, il Real Trinagri ricomincia da dove aveva lasciato in dicembre. Batte anche la Gimini Cascordia soffrendo e attende adesso una super sfida da alte sfere. Domenica sarà il lunch match, ore 12 del 14 gennaio, nella cornice del riaperto sintetico. Valentino Mazzola di Mister Bianco in casa dell'Accademia Catane. Gara di assoluto spessore tra squadre al top della condizione fisica e mentale. Il Real è orfano di Gabriele Amaru, il capitano è passato al Catania e ha ceduto la fascia a Solimene Mario Polvirenti. Dopo la difesa puntellata nell'episodio precedente con l'innesto di Alescio, assente oggi per febbre, dispone comunque di valide alternative giunte nelle scorse settimane. Umberto Randis e Cristian Brancato, professione attaccanti non titolari per l'occasione, confermato quasi in toto il resto dell'undici che ha deliziato la platea nelle tredici giornate del girone d'andata. Solimene, San Filippo e Di Stefano martellano sin dall'inizio, fioccano le occasioni per sbloccarla. Vinci prova affetta la corsia destra in grande stile. Gli scordienzi chiudono di tutto e di più sull'altra fascia. Ecora col piatto non sfonda. Al diciottesimo il meritato 1-0 è con la lancia Solimene che viene anticipato. San Filippo la recupera e porge a Domenico Di Stefano un assist comunicante per Emiliano Solimene che si allarga e la indirizza nella parte più remota della porta, nei pressi del palo. Real Trinagri è in vantaggio poco prima del ventesimo con il gol numero 5 di Solimene che eredita la prestigiosa maglia 10 di Amaru, ma da attaccante radicato del club si conferma non un sostituto bensì il valore aggiunto, specialmente in partite di difficile lettura come queste con la gimnica dove gli spazi sono ridotti al minimo e bisogna inventarsi qualcosa di speciale per dettare legge sul piano del risultato. San Filippo in acrobazia, poi Di Stefano in un fazzoletto di terreno da posizione decentrata quindi costo-costo con Pollina che non abbocca al dribbling. Infine provando a impallinare gli ospiti non pervenuti, con un destro secco dalla distanza al termine di una costruzione firmata Rizzotti-Solimene. Cambiano i protagonisti verso il finale di primo tempo Guarnaccio e San Filippo che il diagonale lo fallisce di poco, non cambia la storia, il Real Trinagri la vorrebbe chiudere entro i 45, non ci riesce e allora è costretta a scomodare il piano, sofferenza anche nella ripresa tra il pallone che non vuol sentirne di entrare, la sfortuna, la imprecisione e la fretta forse il rientro dalle vacanze che rende tutti un po' pesanti e offuscati. Il raddoppio non sarà cosa scontata per un bel po'. Da una giocata di Andò, tra i filetti e Barbera, Solimene sceglie il rasoterra e in mezzo ci si mette la deabbendata che la spinge sul fondo. Guarnaccio e San Filippo sono volti al più totale sacrificio in quella zona destra alta che lo scordia rattoppa finché può e non solo quella. Anche il centro aria è tabù per il Real Trinagri e nuovamente per Solimene. Tamtam di giocata da una fascia all'altra, a sinistra Ecora con tre filetti e Solimene all'imbucata finale che fa spiegare le ali ad Andò, palo e niente, 2-0 al quarto d'ora. Discorso analogo per Di Stefano nel giro di un paio di minuti, a botta sicura ed è un altro legno, destino. Le picconate proseguono con Guarnaccia, Trefiletti ed Ecora, a semicerchio l'avvolgente manovra porta di nuovo al tiro Andò, più preciso di prima, centrale ma ad opporsi, stavolta c'è Pollina il più preso di mira. Un po' di fiato per due titolari, Polvirenti e il dirigente Zocullurà da bordo campo accompagnano Pappalardo e Randis all'ingresso in campo e l'esordio per quest'ultimo, rilevano Peluso e San Filippo. Pappalardo col segno più per effetto di questo assist suggerito da Guarnaccia. Di Stefano non aggancia in piena aria per poi, asfissiato da un capannello avversario non riuscire a sfondare su una straordinaria e caparbia manovra dettata da Guarnaccia e soprattutto vinci prova e perfezionata quindi da Pappalardo in corsia. Da una porta all'altra, da un nove all'altro e solo per un errore di mira che non si materializza la beffa per il Real Trinacria. Caniglia per Crispino a porta spalancata. L'attaccante dello Scordia fallisce l'uno pari e paradossalmente a rammaricarsi sono gli ospiti al quarto d'ora. Ma al venticinquesimo a chiarire ogni equivoco è quando, che argina un rilancio dalla retrovia in due tempi, fa salire mezza squadra. Coinvolgendo nell'argomento Randis e mandando a segno Di Stefano che all'ennesimo tentativo segna il 2-0 di metà ripresa. La chiave sicurezza di questa prima del 2024 al Seminara è il gol numero 9 personale. Finale da pura accademia, i cambi vedono le entrate di Barbera per Rizzotti, brancato all'esordio per Di Stefano e la porta in luogo di Andò. Rinviata la partita della prima in classifica, il Ragusa Boys di Pundi ne ha 26 e dovrà recuperare con l'indictus. Il Real Trinagra vince 2-0 con la Gimmi di Cascordia e si accomoda al momento in vetta al gruppo D a quota 28. Siamo di rientro dalle vacanze, oggi c'era molto vento e quindi noi sicuramente non vogliamo trovare scuse, però magari abbiamo avuto queste difficoltà, però alla fine siamo riusciti a vincere l'obiettivo e abbiamo portato a casa questi tre punti che ci consentono di essere primi per ora, che è il nostro obiettivo sicuramente. Veniamo da 8 reti inviolate, se non sbaglio, e quindi stiamo facendo sicuramente un buon lavoro tutta la squadra, vogliamo continuare così. Stiamo lottando per i nostri obiettivi che è sicuramente quello di vincere il campionato. Riccardo, c'è una sfida cruciale con l'altissima posta in palio, che è quella con l'Accademia Catane a Mister Bianco. Sì, è una sfida molto importante, adesso prepareremo al meglio durante la settimana in modo da arrivare pronti. A chi dedichi la vittoria? La dedico alla mia famiglia, ai mister e a tutta la squadra.